Il direttivo nazionale del Carroccio è stato chiaro, da soli alle prossime elezioni. Il coordinatore provinciale del PDL, Carlos Affioti, afferma il PDL non ha paura, nei piccoli comuni andiamo da soli. Diversa pare essere la posizione per quanto riguarda alcuni comuni importanti come Treviglio, Costa Volpino e Ponte San Pietro. Il rischio di presentarsi divisi è quello di dare chance di vittoria al centro-sinistra. Come peraltro successo in alcune amministrazioni nelle amministrative degli anni scorsi. Mi ero augurato che proprio per consolidare il quadro politico centrato sul centro-destra ovunque si realizzasse l'alleanza PDL-Lega. In questo senso ci eravamo mossi in accordo con la segreteria provinciale della Lega e avevamo trovato un accordo equilibrato su tutta la provincia. La direzione nazionale della Lega ha poi preso un altro indirizzo. Ancora dobbiamo ben capire come si tradurrà operativamente ma mi sembra di capire che a parte i comuni grossi, Vedi Treviglio e forse Costa Volpino e Ponte San Pietro negli altri comuni la Lega abbia ritenuto di andare da sola privilegiando a mio parere un pur legittimo interesse di partito su quello però più importante non tanto della coalizione ma dei cittadini che a mio parere si sarebbero avvantaggiati dal vedere nei propri comuni questa alleanza PDL-Lega coerente con provincia, regione e governo che consolida un quadro politico importante. Al PDL interessa rafforzare il centro-destra interno nell'interesse dei cittadini. Il PDL si muoverà in maniera autonoma con propri candidati, proprie liste a volte anche appoggiando liste civiche è una sfida che raccogliamo ben volentieri sapendo di poterla cogliere. Avremmo preferito una diversa impostazione.